Ben ritrovate lo spazio dedicato agli appuntamenti. Partiamo questa sera ricordando il concerto del violinista Cesare Zanetti e dal violoncellista Flavio Bombardieri che eseguiranno musiche di Locatelli, Lolli, Rovelli e Piatti. Appuntamento imperdibile venerdì 19 alle 21 nella Sala Galmoz di Bergamo. Sempre venerdì alle 15, nella sede della Residenza Sanitaria Assistenziale di Steriate, l'Assessorato alle Politiche Sociali e Società Cooperativa Sociale presenteranno la pubblicazione La Casa dei Ricordi, Voce dell'Anima a cura di Raffaella Cognano. Ancora venerdì al Centro Congressi di Bergamo, Massimo Epis, dalla Scuola di Teologia del Seminario, terrà un incontro sull'opera alla figura di Edith Stein, dal titolo La Fede come forma radicale dell'empatia. Appuntamento alle 20.45. Passiamo ora a un appuntamento di divulgazione scientifica. Telmo Pievani terrà una conferenza al Museo di Scienze Naturali di Bergamo sul percorso evolutivo della specie umana. Appuntamento alle 20.30. Per ulteriori informazioni www.museoscienzebergamo.it Concludiamo questa sera ricordando la cena itinerante sotto i portici del Centro Storico Medievale di Martinengo. La serata con varie degustazioni è a cura del gruppo full coloristico Colleoni. Appuntamento alle 19.00.